E' partito il progetto Estate Sicura della Polizia Locale di Palmi, realizzato e finanziato interamente dall'ex provincia di Reggio Calabria nel 2016, ora città metropolitana, che lo aveva approvato stanziando il relativo contributo. Il progetto è nato per tutelare il litorale con le tante bellezze, ma nel contempo molto ampio e difficile da vigilare. Oltre all'aspetto della tutela del patrimonio paesaggistico ambientale, si è ritenuto importante porre l'accento sulle problematiche connesse all'aumento dei flussi turistici delle coste e del litorale, che necessita, fanno sapere quelli della Polizia Locale di Palmi, di un grande sforzo a tutela dei villeggianti e della sicurezza della balneazione, contrastando quei fenomeni che creano maggiore allarme e disagio, quali la tutela del demanio e delle spiagge, il decoro urbano, offrendo una presenza costante al servizio dei cittadini e dei bagnanti, anche grazie ad un sistema immediato di soccorso in emergenza di tipo cardiologico, con l'utilizzo del defibrillatore semi-automatico in dotazione personale addestrato. In tale contesto, la forza di Polizia Municipale ha un ruolo principale e determinante nello sviluppo delle politiche di sicurezza e, grazie a questo progetto, la Polizia di Palmi ha acquisito, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, due segway comune di Palmi e, infatti, il primo nel meridione a dotarsi di questi strumenti tecnologici. È anche vero che sempre più corpi di polizia in tutto il mondo stanno utilizzando questi nuovi strumenti, così come la Polizia di Stato ne fa uso nelle principali stazioni ferroviarie italiane. È lo strumento che si adatta maggiormente alle esigenze di sicurezza, muovendosi con agilità sia sull'asfalto che nella spiaggia e pure tra i bagnanti. Con i segway gli agenti hanno un tempo di reazione più veloce e agevole rispetto al pattugliamento a piedi, maggiore flessibilità e manovrabilità delle volanti e maggiore visibilità di qualunque alternativa. Questi veicoli a due ruote con alimentazione elettrica e quindi altamente ecologici sono attrezzati di borse e saranno dotati del defibrillatore per le emergenze cardiologiche che gli agenti sono abituati ad usare. Questi nuovi veicoli saranno impegnati sul litorale al servizio dei bagnanti per segnalazioni o emergenze, ma anche per reprimere l'abbandono dei rifiuti sulla spiaggia. In prospettiva si prevede un utilizzo nella zona del Sant'Elia a tutela della Pineta. Saranno anche utilizzati nella zona traffico limitato, dove gli agenti avranno una maggiore rapidità di intervento e di reazione.